Sta già collezionando ottimi risultati Martina Barbarini, atleta di motonautica cremonese che ha iniziato questa attività sportiva solo un anno fa. Barbarini, classe 2002, è arrivata terza al suo primo campionato italiano nella categoria Osi 400. Dopo il mondiale anche le prove dell'europeo in Polonia, la vista posizionarsi nona ed infine il campionato italiano dove Martina è arrivata terza sfiorando l'argento. È nata un po' per caso, un po' improvvisa perché era uno sport che faceva papà e un giorno tramite degli amici abbiamo saputo che c'erano delle prove, delle giornate libere in cui si poteva provare. Allora vabbè ha detto dai andiamo, andiamo, andiamo. Siamo andati come voleva, ci teneva tanto e niente da lì è andata sempre bene, ho iniziato, ho provato sempre più, insomma un po' per caso. Io ho fatto una sola stagione intera perché l'anno precedente con i problemi dell'acqua, campi sportivi, così ho fatto una sola gara. Quest'anno invece è stata la prima stagione per intero che ho fatto e sono arrivata terza nel campionato italiano quindi come prima stagione è andata molto bene io direi. Era il centenario della motonautica perciò c'erano tutti i campioni, tantissime persone premiate, sì è stata una bella emozione.